Buongiorno, sono Daniele Grieco, amministratore e co-founder di Tumorodata. Tumorodata è una start-up specializzata nello sviluppo di soluzioni software e hardware basate su dispositivi connessi e in applicazioni di analisi predittive basate su deep learning specificatamente in ambito industriale, telecomunicazioni e biotech. Abbiamo realizzato IoTli, una soluzione software per telegestione di dispositivi embedded connessi e per la realizzazione di applicazioni telemetria. IoTli abilita l'accesso sicuro di basso livello ai dispositivi embedded via web e offre uno strumento off the shelf per lo sviluppo di soluzioni verticali di industrial IoT. IoTli è composto di due parti, un software di dimensioni ridotte che si installa su qualunque dispositivo basato su Linux senza bisogno di particolari configurazioni e una consola accessibile via web che permette al tecnico di operare sul dispositivo come se front fosse di fronte ad esso. IoTli è disponibile come software as a service in cloud o come installazione on-premise su server del cliente. I campi applicativi di IoTli sono, nell'area telegestione, la manutenzione ottimizzata di flotte di dispositivi connessi, per esempio sistemi di allarme, controllo accessi, videosorveglianza, sistemi di gestione energetica, sale di controllo per apparati telecomunicazioni, apparecchiature biomedicali e molti altri. con un toolbox di funzioni come il riavvio sicuro da remoto del dispositivo, il riavvio di singoli processi, aprire sessioni di SSH, il monitoraggio di processi critici, il recupero di log diagnostici e molti altri. Nell'area telemetria, la possibilità di realizzare rapidamente applicazioni di presa e analisi dati da macchinari industriali ai fini di monitoraggio produzione, verifiche e calcolo di KPI di efficienza produttiva o di manutenzione predittiva. I prodotti e servizi basati su internet non sono più solo un'opportunità, ma una realtà di mercato in enorme espansioni. Le preoccupazioni maggiori che stanno emergendo sono legate all'affidabilità dei sistemi e alla loro sicurezza. IoTli risponde a queste istanze con un'infrastruttura robusta e scalabile, specificatamente costruita per esigenze industriali, basata sui più alti standard di sicurezza e crittografia informatica e che offre la raccolta sistematica di tutto quanto viene operato sui dispositivi ai fini successivi di auditing e controllo. IoTli è adottato da primari produttori nazionali di hardware e software settoriali e sono in corso progetti pilota con vari gruppi internazionali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito IoTli.com Grazie a tutti.